Buonasera, siamo nel posto partita tra Futsal Melito, Bova Marina e Social Lab. La partita è conclusa con il risultato di 4 a 1 in favore del Melito. Siamo insieme ad Andrea Zirilli, nonché giocatore della Futsal. Andrea, che partita è stata secondo te? È una partita abbastanza impegnativa. Abbiamo vinto un pochettino fatiposamente. Siamo all'inizio del lavoro, quindi quattro giorni di allenamento. Dobbiamo lavorare ancora tanto. Il caldo si è fatto sentire? Il caldo si è fatto sentire, però come dicevo andiamo a lavorare. Siamo legando un pochettino pesanti, quindi c'è bisogno di acquisire un po' di velocità, un po' di rapidità. Tra 15 giorni ci sarà il ritorno. Che partita vi aspettate? Ci aspettiamo una partita nuovamente impegnativa, ma cercheremo di vincere così come abbiamo fatto questo oggi.